Uoooooooooooooooooooh ragazzi ce l'abbiamo! mi piace un sacco questa cosa le ho fatte ragazzi vediamo come stanno burloni oggi nella big vanilla succederà qualcosa di veramente incredibile ma quando dico incredibile dico veramente pazzeschissimo mentirissimo veramente assurdo ma prima di iniziare come al solito guardate cosa faccio salviettina tattica ci laviamo le mani come al solito perchè sapete benissimo che noi prima della big vanilla ci laviamo le mani perché devo darvi un buon insegnamento e soprattutto vi do il tempo di lasciare un mi piace perché se arriviamo a 20.000 mi piace mi metto il disinfettante in faccia, ce l'ho detto, lo faccio ovviamente, ce n'è che dico e già che ci siete iscrivetevi al canale perché ormai non si iscrive più nessuno, io sono tristissimo benissimo, cosa facciamo oggi? Allora a parte che avete super apprezzato la villa che ho fatto nello scorso episodio e ho iniziato il video proprio in questa maniera perché fra esattamente 5 secondi da questa posizione voi la vedrete finita beh direi che è venuta abbastanza una figata, abbastanza ragazzi perché si può sempre fare di meglio ma ve la voglio far vedere da vicinissimo guardate che bella, ho deciso di aggiungere qualche oggetto rispetto a quelli che mi avevano dato come ad esempio le foglie verdi non penso che aggiungere sia un problema, guardate che bello, essendo che comunque Halloween è finito e la cosa del macabro dovrebbe essere finita, ho deciso di mettere qualche foglia non le ho messe da questa parte perché sarete voi a decidere nei commenti se preferite con le foglie o preferite senza foglie fatemelo sapere appunto sotto ma oggi che cosa andiamo a fare oltre ad aver finito questa incredibile magione in questa incredibile villa terrificante? a quanto ho scoperto la big regina fere ha aggiunto delle elitra di nederite voglio assolutamente andare a craftarle ma prima di craftare queste nederite elitra voglio andare anche a fare l'armatura della settimana perché come ben vedete noi abbiamo ancora quella di nederite gold voglio assolutamente inserire nel mio parco di armature anche quella di smeraldo sarà veramente una cosa veramente 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 super mega bella però ragazzi c'è da dire una cosa che dobbiamo fare tutti i passaggi adesso non so se mi bastano le elitre che ho sicuramente per quello che ne concerne fare l'armatura di smeraldo sì ma non mi basterà per poi andare a fare l'armatura quella di diamante la settimana prossima quindi probabilmente mi rivedrete in live qualche giorno ho solo un blocco di smeraldo l'ho visto prima ragazzi non ne ho altri guarda ne ho uno di qui non penso di averne altri in giro ragazzi purtroppo perché tutta la cesta vi ricordate quella di loco era stata persa e quindi essendo che è stata persa abbiamo perso tutto qua abbiamo un altro blocco di smeraldo ma non abbiamo nient'altro quindi bisogna andare a rubargli a loco oppure andare da loco e dirgli senti loco non è che per casman è un pezzettino ma tecnicamente non dovrebbe essere troppo un problema ora dovrebbe fare come è che si fa io non mi ricordo come si fa ci serve il ferro il gold il ferro il gold ci serve il ferro ce lo dovrei avere qui e il gold ce lo dovrei avere qua ok per fortuna che ne ho tantissimo ragazzi perché sennò sarebbe la fine peraltro l'altro giorno off camera mi sono portato avanti ho fatto un'altra armatura di nether gold queste qui non ve le faccio vedere queste qui ve le ho fatte vedere queste non ve le ho fatte vedere per semplice fatto che qui voglio mettere tutte le armature di minecraft così qua al centro quella di netherite e qua quella di smeraldo e poi diamante o comunque quella di diamante al centro adesso vediamo un pochettino come strutturarla però mi piace tantissimo così bene 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 allora netherite iron che se vi ricordate si faceva in questa maniera qua ora ne facciamo facciamone 8 ne facciamo ok 8 fatti poi questi li trasformiamo in gold e questi qua dobbiamo trasformarli in smeraldo se non sbaglio esatto ne possiamo fare 4 ciò vuol dire che possiamo fare solo i pezzi dell'armatura base questi qua interessante interessante dir poco vediamo un pochettino cosa ne viene fuori esmeraldo se non sbaglio ora io basta che li metto qua dentro faccio così così e me lo da direttamente pacifies enderman quindi vuol dire che gli enderman se li guardiamo sono pacifici però c'è un però ragazzi vediamo un pochettino se l'armatura migliora qua abbiamo 4 3 e mezzo e 1 qua abbiamo 4 3 e mezzo e 1 quindi questa cosa non cambia per niente andiamo a vedere sulla chestplate invece allora chest ok l'ho fatta direttamente non volevo fare direttamente ma va bene così vediamo un pochettino questa qua questa qui è 9 e 3 e mezzo 1 e qua 9 e 3 e mezzo 1 quindi non cambia realmente niente tra smeraldo e oro sembrerebbe sembrerebbe di no andiamo a prenderci anche questo e poi cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere i netherite gold leggings che sono esattamente questi qua e riusciamo a fare 7 e 3 e mezzo 1 7 e 3 e mezzo 1 essenzialmente non servono a niente di che ragazzi sono la stessa cosa del gold solo che col gold ci rimane il piglin pacifico con questo qua succede il contrario c'è l'enderman pacifico quindi se dovessimo fare una speedrun sarebbe interessante averle entrambi ora proviamo a metterle su vediamo come ci sta sapete che forse questa è più bella di quella di gold mamma mia che bella spettacolo paddy guarda che bella guarda che bella 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 è bella è bella bella un botto ragazzi non capisco perché il cappino di halloween non mi vada via ora però ci servono altri 4 pezzi di smeraldo ragazzi perché vedete che qua ce ne servono altri no più di 4 in realtà perché ce ne servono 4 8 12 16 noi ne abbiamo 2 quindi ce ne servono altri 14 e insomma ragazzi dobbiamo assolutamente andare in una caverna nell'extreme e prendere un po' di smeraldo oppure andare nella farm di loco solo che ragazzi non so se la farm di loco neanche ancora quindi mi conviene a questo punto andare in un'extreme che tanto ne conosco un paio ne conosco un paio qua dietro grande amare sei sempre veramente sei proprio sei proprio un grande amare sei un grande grande molto bene molto bene allora l'extreme che mi ricordavo erano la parte giusta unica cosa non mi ricordo se c'era un ingresso per una cavernina cavernina piccolina quindi quasi quasi ragazzi ci conviene scendere brutalmente perché qui non vedo niente ma si ragazzi prendiamo scendiamo e prima o poi troveremo qualcosa perché ho fatto uno screen non l'ho capito questa cosa comunque cavernat oh smeraldo smeraldo subitissimo interessante questa cosa olè quanti sono uno c'erano dati quattro raga ne avevamo due mica male bro ok qua non c'è più niente siamo sicuri che non c'è più niente tecnicamente sento dell'acqua o me la sto sognando sto sognando che ci sia dell'acqua eccola oh quasi quasi andiamo nella lava ehi pipistrello ciao come stai tutto bene tutto bene ok no ok da 6 a 7 non ci lamentiamo allora tecnicamente comunque nell'extreme hills un bel po' li trovi ragazzi quindi pensavo di riuscire a ucciderlo invece non ce l'ho fatta in teoria qua nell'extreme hills di smeraldi dovrebbero essercene tantissimi no in teoria dovrebbero essercene tantissimi noi ne abbiamo trovato solo 7 no in realtà di meno ancora allora ciao ok due colpi muore vedete ve ne avevo detto io voi dovete ascoltarmi di più ragazzi dovete ascoltarmi lì di più ok diamanti oh raga avete visto? raga avete visto cosa c'era? ho visto qualcosa di super strano ma? eh raga sento dei rumori stranissimi c'è qualcosa tipo che bru ma c'è un pipist c'è un vex perché c'è un vex ragazzi? perché c'è un vex? ma in che senso? scusate mi sono perso qualcosa per caso mi sono dimenticato di fare qualcosa e non mi ricordo che cosa o mi sono dimenticato qualche aggiornamento di minecraft alte diamanti vabbè ragazzi ho capito oggi è la giornata di diamanti vabbè a me va bene sinceramente mi servono quando c'erano dati 12 però mi servirebbero anche gli smeraldi sinceramente smeraldi sono marci ho bisogno di voi per favore per favore devo fare tutte queste cose per favore datemi gli smeraldi ve li chiedo per favore per favore oh smeraldi mi bastava chiedere ragazzi quanti me ne ha dati? 1 va bene allora oh smeraldi ok quanti me ne ha dati? 1 di nuovo oh ma mi dai altri smeraldi per favore oh vabbè va bene va bene così mi sembra ok cioè non è che devo chiederli ogni volta però eh se potessi per favore darmeli a caso va bene l'uguale 17 siamo già a posto ragazzi in realtà però siccome voglio rifarmi anche tutta un'armatura completa extra me ne servono tanti altri 32 me ne servono ancora quindi sono tanti sono veramente tanti mi sa che questi qua li rubo poi a loco tanto ho un'altra settimana per fare questa armatura di smeraldo quindi mica altri diamanti basta diamanti ma com'è possibile? ma mi pare normale va bene va bene va benissimo così non ci lamentiamo noi siamo più che contenti di queste cose si um 2 me ne ha dati ok altri diamanti niente altri smeraldi si ok quanti ne abbiamo? 22 e 17 ragazzi ma sono veramente tantissimi cioè siamo qui da neanche 2 minuti praticamente no 2 minuti no però tipo 5 minuti eh ok sali 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 su molto bene molto bene allora dobbiamo far diventare questi nederite gold dei nederite emerald perfetto ce ne avanzano anche 6 non male non male non male quindi scendiamo smiting table e trasformiamo anche tutti i nostri attrezzi in smeraldo dà qualcosa in più questa toglie ah si vedi vedete ragazzi quella in smeraldo fa più danno di quella in gold 12 contro 13 e 1.6 non male questa cosa la palla non penso che cambi perché 6 e mezzo e 1 7 la palla che toglie 7 ragazzi toglie quanto una spada in diamante va bene il piccone da 6 a 7 ragazzi mamma mia e l'accetta da 14 arriva da 16 a 15 esatto ragazzi topissima questa cosa veramente fantastica siamo full set in nederite adesso voglio trasformare le mie elitra perché ragazzi nella big vanilla ci sono le elitra di nederite noi le faremo adesso si bellissimo bellissimo allora il crafting non lo so cioè io il crafting essenzialmente non ho la più paidea di cosa sia di come sia e di cosa dovrebbe essere sinceramente allora intanto meno male che ho tolto prima ragazzi nella mansion ho dovuto togliere due pezzettini perché avevo preso il redner brick ma mi ero mi ero reso conto che non potevo utilizzarlo quindi essenzialmente ho dovuto togliere meno male che ne ho preso solo uno per provare quindi va bene così allora elitra secondo me o si fa lo stesso modo dell'altro o si fa così vediamo un pochettino no così non si fa vediamo così così non si fa e allora banalmente ragazzi si fa nella smiting table se sbaglio non so come si dovrebbe fare vediamo un pochettino se si fa così così e così ragazzi ragazzi nederite elitra ce l'abbiamo sembrava più difficile previsto in realtà è super mega facile mi piace un sacco questa cosa le ho fatte ragazzi vediamo come stanno ma mi danno anche armatura forse no non danno armatura per sfortuna cosa che fanno in più secondo me hanno tipo più durabilità hanno più durabilità penso si secondo me semplicemente hanno più durabilità si 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 hai capito hanno 540 di durabilità contro 200 di quelle normali fantastico però big regina mi sarebbe piaciuto che queste nederite elitra mi avessero dato un pochettino di armatura devo essere sincero con lei devo essere sincero comunque ragazzi noi ci vediamo in un prossimo della big vanilla venerdì chissà se ci saranno altri misteri io non ve l'ho detto ma non ho aperto questa cesta e non so se dentro c'era un libro o qualcosa fatemi sapere sotto nei commenti se qua dentro c'era una cesta anzi apriamola 1 2 2 3 Grazie a tutti